La forma del cortometraggio credo più del lungo, perché se vado devo scegliere a fare il direttore della fotografia di un autore, oggi non c'è di meglio che vedere il carattere attraverso una storia o qualcosa di breve e poi li vivo e li guardo, anche quando mi chiamano a fare delle giurie, perché riconosco e conosco molto meglio gli autori e il futuro di un autore, ecco io li chiamo i miei clienti. Mi piace conoscere il collega, il futuro collega, perché io credo che anche l'entusiasmo ti aiuta tantissimo nel mestiere, perché se non hai entusiasmo e se non ti entusiasmi, questo mestiere non lo puoi fare, questa è una passione, è uno stimolo che avviene anche con autori giovani, puoi anche rubare se vuoi, rubare l'entusiasmo, ecco essere un po' vampiro e mi piacerebbe tantissimo fargli i cortometraggi e collaboro continuamente anche con ragazzi che fanno cortometraggi e li guardo, ma i grandi maestri come Scorsese facevano i cortometraggi come Same, quindi è una storia che continuerà per sempre, il corto non morirà mai, disgraziatamente non ha una distribuzione, al cinema il corto non ci potrà stare mai, potrà stare in una rassegna. Sicuramente io in Spagna, ho visto e anche in Francia, ho visto che c'è un grande rispetto per i cortometraggi, addirittura in Spagna fanno dei DVD di tanti cortometraggi che sono venduti e noleggiati, quindi è quella la formula migliore, l'on video, cioè tu puoi arrivare o con la tv o con l'on video e io non ho niente di contrarre alla televisione, la televisione fa brutta produzione in Italia, ma il mezzo è geniale, perché quel mezzo è stupendo, specialmente per i cortisti e io personalmente, che ti ripeto non sono stato produttore di me stesso, che mi vada a vendere i cortometraggi e io dico, porca miseria, ma questo è un genio, questo può essere questo, questo lo devi chiedere, poi ci sono quello, questo non ne voglio sentire manco l'odore, allora come fai la scelta, gli fai fare i film? No, gli devi vedere i corti, tanto è vero che adesso i produttori l'hanno capito e quando arrivano gli autori nuovi, dico hai fatto corti. Io credo che sia assolutamente giusto che nasca e cresca la tecnologia, ma si deve scegliere il mezzo per quello che si racconta, io non saprei fare un film con un telefonino, però è un fatto di elaborazione di pensiero, cioè io guardo con quel mezzo, io ancora sento il bisogno della macchina da presa, della pellicola, di un rumore, di qualcosa che mi passa davanti, se tu mi dai una macchina da presa digitale o pellicola, io sono psicologicamente più tranquillo, il mezzo non fa paura, è come uno si rapporta. C'è un episodio di Pasolini con Tonino Nellicolli che diceva Pierpaolo, stava girando una scena, e gli diceva Pierpaolo, Pierpaolo, non c'è la pellicola, Pasolini si gira verso Tonino Nellicolli e gli dice va bene lo stesso, se c'è un'idea si gira pure con la carta igienica. Siamo in un periodo pericoloso, siamo in un mondo di immagini, ed è difficile oggi fare un'immagine che ti colpisce, dal resto ti puoi limitare a fare piccole cose, ma devi essere alto ad avere la forma, perché il cinema come dice Lynch, come dice Lynch, il cinema ha tre cose, la musica, il suono e le immagini, la storia, poi è un'altra cosa, ma sicuramente devi avere la confezione, per essere banale, devi avere l'immaginario, devi viaggiare e devi fare viaggiare lo spettatore, come faceva Fellini. Fa piacere a un autore essere riconosciuto, essere visto in un festival, perché poi c'hai la stampa che o ti massacra oppure ti esalta, ma sicuramente i festival sono faticosi, ma sono importanti per un autore, per la distribuzione, per la vendita all'estero, anche perché noi dobbiamo vendere all'estero, altrimenti rimaniamo provinciali. pubblico è importante perché ti dà l'emozione a noi autori che andiamo lì, e io l'ho avuta diverse volte, anche con Franco, quando abbiamo presentato dei film, anche se sono stati degli eventi, di alzarmi in sale e tu sai che lì dentro ci sono mille spettatori, che non vedrai mai più. E scusa, i film per chi li fai? I film li fai per la gente. Io non sono mai stato regista di nicchia, che questo sia chiaro, o perlomeno non ho mai pensato di esserlo, forse lo sono diventato, però sicuramente ho sempre pensato di farmi vedere, perché sarei stupido a non farlo, allora perché lo faccio? Allora, niente, un saluto al Festival O'Court, ci vedremo presto, io spero di esserci e anzi me lo auguro con tutto il cuore, anche perché tutto il discorso che ho fatto, sennò non vorrebbe a nulla. Grazie.